Quarta sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che torna senza i due punti dall'Unipol Arena di Casalecchio, dove il posticipo della 24esima giornata di Serie A è andato a Reggio Emilia per 91-79. I biancorossi restano dunque in ottava posizione a quota 18 punti. Coach Repeja, che ha potuto contare sul ritorno in maglia biancorossa di Ebois e di Massena, recuperato dall'infortunio, ha aperto il match decidendo di mandare in Quintetto, Robinson, Drell, Filipovic, Kane e Tambone, che ha messo a segno i primi punti dei biancorossi. Durante la partita, la squadra non è riuscita a coprire e a recuperare la distanza dagli avversari segnata già nel primo periodo, quando il punteggio vedeva i padroni di casa sopra di 9 punti. A conclusione del primo tempo e con l'avvio delle squadre verso gli spogliatoi, i biancorossi erano sotto di 12 e a rientro sul parquet, Reggio Emilia ha registrato il massimo vantaggio di serata, con il risultato parziale di 62 a 39. Tra i biancorossi, il miglior realizzatore di serata è stato Carlos Delfino, autore di 14 punti. A fine match, il presidente Ario Costa ha commentato la gara giocata contro gli emiliani, affermando la sofferenza biancorossa sotto tanti aspetti e sottolineando poi che fino al termine della stagione tutti gli incontri saranno importanti e più che mai difficili, visti gli obiettivi e l'ambizione di ogni squadra. Nota positiva il rientro di Massenat, ma Costa ha ricordato la necessità per la squadra di guardarsi le spalle e pensare in ottica salvezza. Nel prossimo turno di sabato 3 aprile, valido per la 25esima giornata di Serie A, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro tornerà sul parquet casalingo della Vitrifrigorena per la sfida contro la De Longhi Treviso.